Le note che si innalzavano, languide e laceranti e ipnotiche, mentre lui chiudeva gli occhi e le veniva. Per fare silenzio, forse me lo sono immaginato il gesto, nel senso che devo stare zitto, non devo dire cose inutili o stupide, ma è giusto, è giusto, va, era lì, ma non gli importava niente, non gli importava niente di niente, l'unica cosa era la musica che stava a suonare. La musica La musica